Il problema della resistenza agli antibiotici ha ormai assunto una rilevanza globale, purtroppo molte aziende hanno abbandonato negli anni passati questa problematica, ma ci sono delle realtà che si sono impegnate e si stanno impegnando nella ricerca di antibiotici innovativi ed efficaci. Ne abbiamo parlato con il dottor Roberto Florenzano, country manager d'Italia della Qubis Pharmaceutical. Allora dottor Florenzano, cerchiamo innanzitutto di capire questa Qubis farmaceutica, di descrivere la sua carta d'identità. Qubis è un'azienda americana, un'azienda bio farmaceutica che nasce 22 anni fa, quindi non è un'azienda che nasce ieri, nasce nel Massachusetts, a Lexington esattamente, con un focus molto preciso, ricerca e sviluppo di nuove e innovative terapie per il paziente acuto ospedalizzato, con un focus particolare sullo sviluppo di nuovi antibiotici per giorni multidrug resistant. Quindi è esattamente il focus nelle patologie che stiamo discutendo. Come si è diffusa questa azienda? Nasce in America ma si è diffusa anche nel resto del mondo. Dove sono le sedi più importanti? Nasce in America, ha una presenza diretta negli Stati Uniti da tanti anni, come dicevamo prima. Fino ad oggi, fino a poco fa, ha avuto sempre una presenza in diretta attraverso partner nel resto del mondo e nel 2013 ha annunciato un importantissimo piano di espansione internazionale che prevederà una presenza diretta e quindi una commercializzazione direttamente da parte di Qubist anche in una serie di altri paesi particolarmente importanti del resto del mondo e l'Italia farà parte di questa lista. Parlavamo all'inizio proprio del problema della multiresistenza. Si può dire brevemente quali sono i numeri del problema in Europa e in Italia e anche i costi di questa problematica? Allora, il problema della multiresistenza è attualissimo, è considerato un importantissimo problema di salute pubblica da parte dell'OMS e non è purtroppo, è un problema in crescita, non è purtroppo sempre all'attenzione quotidiana. Parliamo di un problema che coinvolge qualcosa come 25.000 pazienti l'anno in Europa che sono colpiti da infezioni, da germi multitrack resistant e purtroppo non sopravvivono a queste infezioni per la mancanza di alternative terapeutiche. Se pensiamo all'Italia, dal 5 all'8% dei pazienti ospedalizzati contragono un'infezione nosocomiale e la mortalità si aggira intorno ai 5.000, dai 5.000 alle 8.000 persone l'anno muoiono per infezioni di germi multitrack resistant. Quindi volendo fare un conticino quotidiano parliamo di 25 persone al giorno che perdono la vita per questo tipo di problema. E purtroppo è un'area nella quale la ricerca e sviluppo negli ultimi anni delle grandi aziende si è concentrata poco per difficoltà di fare studi clinici, per difficoltà regolatorie, perché il valore di questi farmaci si erode nel tempo con lo sviluppo di resistenze e di conseguenza ci sono state pochissime nuove alternative terapeutiche negli ultimi anni. Sono 25 anni che non c'è una nuova molecola in commercio sui grammi negativi. Allora parliamo della pipeline di Qubist. Quali sono le aree terapeutiche, quindi le patologie, è il vostro target? Allora come dicevamo all'inizio Qubist si concentra in un'area terapeutica molto specifica e credo che il punto di forza di Qubist sia il focus, il focus su un'area di altissimo medical need, quello delle infezioni da batteri multitrack resistant. Qubist investe qualcosa come 400 milioni di dollari l'anno in ricerca e sviluppo tutti focalizzati in quest'area molto specifica e circa il 40%, un poco meno del 40% delle proprie revenue si sono investite in ricerca e sviluppo appunto come dicevo focalizzate in quest'area e crediamo di poter dire di essere l'azienda che investe, ha il maggior investimento di ricerca e sviluppo su nuovi antibiotici. Credo che sia importante anche dire che le nostre priorità di ricerca sono assolutamente allineate con quelle delle grandi istituzioni come CDC, ICDC e OMS e l'altro aspetto che credo sia importante comunicare è che come probabilmente saprete c'è stato un grido d'aiuto da parte della società americana di malattie infettive per sviluppare nuove antibiotici, questo 10-20, 10 nuove molecole su germi identificati che sono particolarmente resistenti entro il 2020. Bene, Qubist ha raccolto questo grido e si è impegnata a portare almeno 4 nuove molecole dentro il 2020. Queste 4 nuove molecole a quale tipologia, a quale patologia, a quale resistenza sono rivolte? Allora, noi abbiamo innanzitutto 4 molecole attualmente in commercio negli Stati Uniti e nel resto del mondo, in particolare in Europa, due di queste sono presenti attraverso partners, queste resteranno ovviamente nei partners, abbiamo una serie di molecole in sviluppo, in particolare due molecole in fase registrativa a livello europeo, in fase di approvazione da parte dell'organismo regolatorio europeo EMA, la prima di cui ci attendiamo un'approvazione nel primo semestre dell'anno prossimo o una risposta da parte dell'organismo entro il primo semestre dell'anno prossimo è rivolta alle infezioni da parte di germi gran positivi multi-drug resistant che sono un particolare problema nel mondo e in particolare in Italia dove abbiamo incidenze di resistenza tra le più alte d'Europa. La seconda molecola viceversa arriverà, ci attendiamo un'opinione da parte del EMA nella seconda metà dell'anno prossimo e questa viceversa è rivolta ai germi gran negativi multi-drug resistant che come dicevamo prima è un'area di particolarissimo medical need visto che non ci sono nuove molecole da ben 25 anni in commercio. Per quanto riguarda quelle altre due molecole già provate in America, cosa ci può dire? Le altre due molecole sono commercializzate attraverso partner, una riguarda l'area di gran positivi e un'altra riguarda un'altra area di importante medical need è quella di infezioni da crostridium difficile. Quali forze avete pensato di mettere in campo per l'ingresso di QBIS in Italia? L'ingresso in Italia è un qualcosa che sta partendo in questi giorni, noi abbiamo iniziato a lavorare intorno all'estate e quindi stiamo lavorando in questa maniera con delle priorità molto in questo momento con delle priorità molto chiare, le priorità sono essenzialmente di costruire, costruire un team d'eccellenza che crede in questo progetto, voglia portarlo avanti, voglia quindi contribuire a questo progetto, ovviamente il setup dell'azienda infrastrutturale, logistico, di compliance e quant'altro e soprattutto quello che vogliamo fare, siamo un'azienda nuova, abbiamo bisogno di affermare, almeno in Europa, negli Stati istituzioni, specialisti, esperti italiani che sono eccellenza e in media costruire la fiducia nella nostra azienda, vogliamo essere un'azienda seria, portiamo dei farmaci importanti che vogliamo posizionare in maniera giusta, in modo appropriato, in linea con i principi di antimicrobial stewardship e quindi lavoreremo in questa direzione. Nel lungo termine l'obiettivo non è tanto nascosto ma è molto chiaro e comunicato, l'obiettivo è quello di diventare anche qui in Europa un leader del settore anti-infettive. Che importanza avrà secondo lei l'ingresso di Qubist in Italia? L'ingresso di un'azienda in Italia multinazionale in questo momento è qualcosa veramente di particolare e va assolutamente detto, credo che sia attualissimo, non parlo solo di farm, parlo in generale di multinazionali che l'Italia la elimino dalla loro lista o lo elimino dalla loro lista dei mercati prioritari, a favore di altri mercati diversi, per mille motivi che non credo sia l'obiettivo della discussione in questo momento. Io credo che noi come Qubist abbiamo una storia da raccontare, in Italia in particolare, di particolare interesse, perché siamo un'azienda che investe in maniera prioritaria su un'area di altissimo medical need, dalla quale moltissime grandi aziende sono uscite, che è quella dello sviluppo di nuove molecole contro la multitrack resistance. Secondo aspetto, un'azienda che decide di investire in maniera prioritaria nel nostro paese, in questo momento, e questo ovviamente significa portare investimenti, significa creare occupazione, significa portare studi clinici e stiamo cercando anche di portare studi clinici nelle prime fasi di sviluppo, che sono una cosa estremamente importante dal nostro punto di vista. Terzo aspetto, che credo sia particolarmente interessante nella nostra storia, noi come parte di questo investimento in Italia, noi abbiamo anche centralizzato una grossa fetta del nostro investimento produttivo in Italia, valorizzando l'eccellenza manufatturiera, chimico-farmaceutica di diverse aziende italiane. Per fare un esempio, il principio attivo della molecola oggi in commercio di Qubist, di maggiore successo, viene prodotto in Italia e esportato in tutto il resto del mondo. Noi abbiamo collaborazione con sei siti produttivi e negli ultimi anni abbiamo investito diverse decine di milioni di euro per creare linee produttive, per espanderle, per ammodernarle e il piano è anche per le nuove molecole di continuare a fare in questa maniera. Per esempio, la molecola per i grammi negativi di cui parlavamo, anche in questo caso il principio attivo sarà prodotto in Italia e esportato in tutto il mondo. Grazie per la visione!